buongiorno a tutti e ben ritrovati sul nostro canale continuiamo col nostro tutorial sull'utilizzo di free card oggi affronteremo due temi uno è la prosecuzione del nostro assieme con due particolari semplici semplici li vedete qua a destra quindi faremo le due rondelline 12 e 13 dove c'è una rondella ma comunque dove c'è un disegno tecnico normalmente c'è l'impiego di video di fuori filettati e vedremo come affrontare quelli tramite l'utilizzo di un work banks e di un work bank scusate il mio inglese dopo vi spiegherò cos'è guardate se non lo se lo farò se non lo farò cosa mai segnalatemelo che provvedo devo mettere questo assieme a questo pdf in descrizione per dare a voi la possibilità di scaricarlo onde poterlo stampare seguire meglio i miei tutorial bene cominciamo col fare la rondellina numero 12 quindi creiamo un nuovo progetto lo salviamo subito con un nome particolare numero 12 come sempre per la nostra comodità andiamo a visualizzare l'origine degli assi ed è ovvio che questa è la sottrazione di due cilindri dell'altezza di 0.5 quindi ambiente di lavoro part creiamo un cilindro andiamo a selezionarlo vediamo il raggio 14 ed altezza 0,5 andiamo sulla lente ingrandimento per adattare il nostro ambiente di lavoro alle dimensioni corrette e andiamo a creare un secondo cilindro andiamo a selezionarlo diametro 8 il che vuol dire raggio 4 di questo cilindro non mi preoccupo dell'altezza che dovrà avere cosa faccio seleziono il cilindro che voglio che resti e poi col tasto contro il cilindro che voglio sottrarre sottrazione di forma e come vedete la rondella è bella che fatta se voglio solo per mio piacere personale perché con 0 5 è veramente poco vado a selezionare la forma cata vado a selezionare l'utilità per gli smussi e vado a creare degli smussi quindi li vado a selezionare tutti ovviamente guardate cosa succede se io lascio un millimetro ok sparisce perché mi dice non posso fare degli smussi su una rondella alta 0 5 degli smussi da un millimetro quindi modifica annulla seleziona la forma utilità smussi seleziono tutto e vado a con la rondella del mouse o scrivendo la selezionare degli smussi da un decimo ok e vedete che abbiamo smussato la nostra rondellina rinominiamo anche il particolare chamfer come particolare numero 12 e salviamo il tutto chiudiamo il nostro il nostro ambiente di lavoro creiamo un nuovo ambiente di lavoro qua abbiamo da prendere un cilindro largo diametro 14 sottrarre un cilindro diametro 7 quindi semplicissimo cilindro andiamo a modificare il raggio in 7 e l'altezza in gruese 1 un millimetro andiamo a creare un nuovo cilindro lo selezioniamo raggio 3,5 3,5 di questo non mi preoccupo della sua altezza perché tanto sarà da sottrarre quindi seleziono il cilindro che voglio lasciare col tasto contro il cilindro che voglio sottrarre ed ecco che abbiamo la nostra rondellina come prima seleziono la rondella ecco attenzione una cosa se non avete messo l'altezza 1 quando avete un insieme di forma non potete più andare a modificare la sua altezza vedete che non ce l'ho potete modificare solo la posizione e l'inclinazione rispetto al piano principale selezioniamo l'utilità per gli smussi gli selezioniamo tutti e andiamo a creare un piccolo smussetto da un millimetro possa essere uno smuss o un raggio va bene tutto f2 allora prima di tutto salviamo il file dovevamo farlo già da subito quindi salva particolare numero 13 e salviamo e rinominiamo anche la forma come particolare numero 13 e lo salviamo benissimo ora noi abbiamo creato una rondella visualizziamo l'origine gli assi una rondella con un foro da 7 mm ipotizziamo che io voglio prendere questa rondella e fissarla con un dado in un foro mi servirà assolutamente una vita costruire una vita costruire una vita non è difficile non è impossibile in free card ma esiste un work bank chiamato fastners che voi se avete installato da zero free card probabilmente non avrete ok per avere il work bank fastners voi dovete andare in google in a questo indirizzo che poi metterò in descrizione scaricare il file fastners vb mostriamo nella cartella eccolo qua prendere il file scaricato estrarlo copiarlo dopo di che andate nella cartella di installazione di free card devo ricordarmi qual è eccola qua free card la aprite andate nella cartella mode eccolo qua io l'ho già fatto in quella cartella copiate la cartella che avete scaricato e scompattato a quel punto nel vostro ambiente di lavoro apparirà dovete chiudere e riaprire free card se l'avete aperto l'utility fastners premendo su fastners vi cambia il menu ed ecco che qua avete tutte le viti che volete prendiamone una a caso nel cliccarlo ecco che vi crea una vita vi ha creato una vita m6 lunga 10 mm ma voi potete modificarla come volete ecco qua e tre ad vi permette di vedere o di non vedere la filettatura dategli un attimino di tempo perché vi permette di vedere o non vedere la filettatura perché ovviamente a seconda del pc che avete vedere o non vedere la filettatura comporta un certo impegno sotto il punto di vista delle prestazioni posizione ecco che voi potete andare a mettere la vita esattamente dove vi interessa qual è la cosa bella del creare le viti la cosa bella del creare le viti è questa che se voi create un cilindro quindi torniamo in parte andiamo a con la barra spaziatrice a far sparire la nostra rondella e creiamo un cilindro eccolo qua un cilindro gli cambiamo il raggio quindi lo facciamo crescere e lo spostiamo in basso alziamo le anche l'altezza ora prendiamo il nostro cilindro e col tasto control selezioniamo la vita facciamo una sottrazione di forma e noi abbiamo creato un foro filettato ok quindi ricordatevi questa operazione perché quando noi dovremo creare dei fori filettati useremo delle viti per andare a crearle lo stesso discorso si può fare anche sull'esterno ora io ho perso di vista il diametro del filetto creato però prendiamo un fastener prendiamo un dado eccolo qua il nostro dato andiamo a dirgli guarda il mio dato è un dado m10 eccolo qua perfetto andiamo a prendere il nostro dato e andiamo in posizione abbassiamolo sulla z clicchiamo sulla forma interna e poi col tasto control sul dado da parto ovviamente che possiamo farlo anche dopo e facciamo sottrazione di forma modifica annulla vi spiego perché prima di fare questo dovete andare a dirgli però io voglio vedere la filettatura ora che la filettatura si vede clicchiamo sul cilindro control e clicchiamo sul dado sottrazione di forma vedete che ci mette di più rispetto a prima eccoci ho usato un dado di un filetto troppo grande torniamo indietro modifica annulla andiamo sul nostro dado diciamo che io voglio un m8 ecco quale m8 clicchiamo sulla forma interna tasto control clicchiamo sul dado ecco che abbiamo anche la filettatura sull'esterno quindi capite che senza crearsi grossi problemi con l'utility work bank con pardon con il con l'utility fasteners io posso andarmi a creare tutte le filettature che voglio ecco vedete che abbiamo anche una filettatura arbitraria cioè qua io posso crearmi una barra filettata volendo quindi lunghezza esageriamo e questa andiamo a cancellare il cut che è tutta quella roba che ho fatto prima eccola qua questa qua è una barra filettata per vedere che è una barra filettata io metto il triad a true scusatemi tanto per il mio inglese il computer ci lavora un attimino e mi mostrerà la filettatura filettatura che io poi posso modificare come voglio in m3 in m4 in m5 posso cambiare la lunghezza e posso cambiare un po' tutti i parametri posso anche crearmi adesso vediamo delle filettature qua me la fai in automatico in base al diametro posso ovviamente ho già le rondelle anche prestabilite quindi io prima me la sono costruita una rondella ma posso farmela e ho tutta una serie di fasteners non so se avete presente cosa si intende per fasteners per fasteners si intende viteria generalizzata ecco quest'utility mi autocostruisce un po' tutto ciò che mi serve per unire diciamo più componenti ecco come abbiamo trovato l'utility fasteners se voi sempre su google scrivete workbanks freecad vi porta in quelli che sono gli ambienti lavoro standard e vi da un po' di informazioni su come modificarli perché essendo freecad un open source noi riusciamo un po' a trovare un sacco di cose extra per la piegatura per il taglio per le lavorazioni meccaniche gli utensili già costruiti possiamo anche andare a cercare dei siti vediamo se ne ho qualcuno tra i preferiti modelli 3d io ne avevo uno bello vediamo se riesco a trovarlo no questo eccolo qua su questi siti voi potete già eh trovare molte cose che vi possono servire vediamo ecco vedete che io e l'inglese non andiamo d'accordo volevo trovare perfetto il mandrino di un tornio voi andate qua vedete in che modalità potete scaricarlo stl è una tipologia di file compatibile con freecad scaricate il file un profilo sono già registrato perfetto sono entrato perfetto abbiamo scaricato chac1.zip lo andate a estrarre eccolo qua sempre in freecad potete andare a importare il file in questione eccolo qua io ne ho scelto uno a caso ce ne sono di dettagliatissimi io ho scaricato un tornio asens in stl è veramente fatto bene quindi abbiamo oggi abbiamo disegnato le due rondelle abbiamo visto come inserire i fasteners e abbiamo visto come scaricare e inserire i 3d li dovete un attimino poi imparare ad arrangiarvi anche a leggere cosa andate a scaricare vedete normalmente vi dice il formato in questo caso ho scelto un formato stl c'è il formato obg e ci sono anche li vedete qua ci sono parecchi formati che vengono letti da free card e parecchi formati invece che non vengono letti quindi dovete scegliere altri 3d comunque grab card offre una bella libreria di disegni tridimensionali per i vostri assiemi bene io qua per oggi mi fermerei e spero di esservi stato utile anche con questo con questo tutorial abbiamo visto cose interessanti perché poter disporre di una libreria infinita di oggetti tridimensionali è veramente bello vi facilita molto la vita e vi permette di creare oggetti molto complessi senza perdervi ore e ore e ore bisogna solo selezionare quei 3-4 siti di librerie interessanti per la vostra tipologia di lavoro io con questo vi ringrazio e vi aspetto al prossimo video mettetemi un like se vi sono piaciuto se no come sempre fate finta di niente e alla prossima grazie a tutti buona giornata grazie a tutti grazie a tutti